Conquistate gli obiettivi Stiamo prendendo Alfa Stiamo prendendo B Stiamo prendendo B Il nostro contrattacco U2 è in volo Il nostro U2 è in volo B sotto controllo Approvvigionamenti pronti per la consegna Indicateci la destinazione Approvvigionamenti alleati in avvicinamento U2 alleato in arrivo Stiamo prendendo B Stiamo prendendo A Il nostro U2 è pronto Attenti, RGX di nemico individuato U2 alleato in arrivo RGX di nemico individuato RGX di nemico individuato RGX di nemico individuato